Piovono bombe sull'Ucraina e sanzioni sulla Russia, prosegue la guerra del gas e il segretario generale dell'ONU in queste ore si trova in Ucraina mentre Mosca minaccia l'uso di armi mai utilizzate finora. Uomini e donne diversi anche nella gestione del risparmio e sugli investimenti finanziari, il divario di genere in Italia fotografato dall'ultima indagine dell'Università Cattolica. Il giorno dedicato alla memoria delle vittime della Shoah oggi in Israele, iniziative in tutto il paese e cerimonia al cospetto delle istituzioni per non dimenticare l'olocausto. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di TV2000, dunque in apertura c'è la guerra in Ucraina, allora andiamo subito a Leopoli dove c'è il nostro inviato Vito De Torre, ti vediamo Vito, buongiorno a te. Sì, buongiorno, vi confermo che l'attacco missilistico sferrato ieri intorno alle 10 del mattino è stato intercettato dalla contraerea ucraina. A dichiararlo è stato proprio il responsabile, il capo dell'amministrazione militare di Leopoli. L'attacco missilistico è stato sferrato dal mare ed era diretto proprio su Leopoli. Noi in quel momento eravamo all'interno della stazione, ha funzionato l'intervento immediato delle forze della contraerea ucraina. Questa è una conferma importante appunto che è arrivata dal capo dell'amministrazione militare. Al di là di questo continua lo sforzo enorme dell'amministrazione di Leopoli per dare accoglienza ai profughi, una città di circa 800 mila abitanti che dà accoglienza ad oltre 400 mila profughi. Alle nostre spalle c'è un monastero dei Benedettini, ci sono anche delle suore di clausura Benedettine che pensate hanno aperto, hanno spalancato le loro porte. Hanno ricevuto una deroga per quanto riguarda la clausura proprio per accogliere i profughi. Ma al di là di questo c'è anche un pezzo di chiesa italiana impegnata nell'accoglienza. L'opera Don Orione, Don Egidio che adesso conosceremo, veramente ha spalancato le porte del suo monastero. Allora andiamo a vedere questo servizio con il quale io da Leopoli vi restituisco la linea. Dal secondo e terzo giorno dell'inizio della guerra abbiamo iniziato ad accogliere le persone perché tantissime persone soprattutto da Kiev fuggivano e quindi sono arrivate qui, noi abbiamo i nostri canali e già dai primi giorni abbiamo riempito la casa. Tutte le sere a fine giornata Don Egidio si ferma a parlare con i profughi. L'atmosfera è familiare con le 35 persone che sono ospitate nella struttura dell'opera della Divina Provvidenza. Ci sono tanti bambini, anziani e mamme sole. I mariti sono al fronte. Appena ha scoppiato il conflitto Don Egidio ha messo al sicuro i ragazzi disabili ospitati nel centro e poi ha spalancato le porte a chi fuggiva dalla guerra. Noi abbiamo fatto partire i nostri disabili perché vivono dei disabili qui con noi, quindi si sono liberate le camere dei disabili e adesso vengono occupate dai profughi. Vengo da Kharkiv e sono arrivato qui con mia moglie e mio figlio di quattro anni malato di diabete. Grazie a Don Egidio adesso mio figlio sta ricevendo le cure necessarie all'ospedale di Trieste. Ha lasciato l'Ucraina con mia moglie. Io non posso lasciare il paese perché potrei essere richiamato dall'esercito. Sarò sempre riconoscente a Don Egidio per la sua accoglienza. Per fortuna che nel mondo ci sono persone come lui. Anche noi veniamo da Kharkiv e lì non si poteva più stare. Mio figlio non faceva altro che piangere e disperarsi perché il rumore delle bombe era troppo forte. La casa tremava, i vetri del salone sono scoppiati e poi anche il tetto ha ceduto. Mio figlio tra l'altro soffre di epilessia e non so cosa può succedere in quei momenti. Ho saputo di questo posto da un vicino di casa. Non conoscevo Don Egidio ma lui ci ha accolto come fossimo la sua famiglia. Rimaniamo ancora in Ucraina perché continuano i bombardamenti delle forze russe. Si concentrano nel sud del paese mentre l'Unione Europea prepara il sesto pacchetto di sanzioni per Mosca. Sentiamo Marco Burini. Sanzioni, ritorsioni, implicazioni economiche, politiche, culturali, filosofiche. Tutto quello che volete ma non dimentichiamo il punto di vista fondamentale 64 giorni dopo. Persone vengono ancora ammazzate, torturate, violentate, deportate. Persone piangono i loro cari, vedono andare in frantumi le loro case, le loro vite. Persone fuggono e persone restano rintanate in attesa di una liberazione che non arriva. Perché colui che ha scatenato tutta questa follia non cede, anzi minaccia l'uso di armi mai viste. Se qualcuno osa interferire in ciò che ritiene roba sua e invece è il destino di due popoli e ormai del mondo intero, viste le ripercussioni. Oggi tiene banco il gas. Lo stop a Polonia e Bulgaria è un avvertimento a tutta l'Europa che vacilla, si divide. L'Ungheria ha già detto che pagherà le forniture di gas e petrolio in rubli, come pretende il Cremlino, mentre la Commissione Europea prepara il sesto pacchetto di sanzioni. Funzioneranno? Per Scholz nemmeno un embargo sul gas avrebbe effetto. Se Putin fosse stato aperto ad argomenti economici, dice, non avrebbe mai iniziato questa guerra folle. Perciò il cancelliere tedesco manda carri armati a Zelensky, che non pensa più solo a difendersi, ma a contrattaccare, grazie anche ai droni da combattimento che gli americani stanno per mandare, nell'ennesima infornata di armi per Kiev. Questa guerra sciagurata spinge a schierarsi. Se Svezia e Finlandia decidono di entrare nella Nato, saranno accolte a braccia aperte, ha detto il segretario dell'Alleanza Atlantica, Stoltenberg. Mentre Guterres, che con Papa Francesco e pochi altri punta ancora al dialogo, ha visitato Borodianca, Buccia, Irpin, in cui l'orda russa ha fatto scempio. I civili pagano sempre il prezzo più caro, ha detto il segretario generale dell'ONU. Nel ventunesimo secolo la guerra è un'assurdità inaccettabile. L'appoggio a Kiev e la condanna dell'aggressione russa sono al centro degli impegni di Mario Draghi, telefonata al presidente Zeneschi oggi, mentre Palazzo Chigi prepara anche la partenza del Premier per gli Stati Uniti. Augusto Cantelmo. Appena conclusa la telefonata con Draghi e proprio il presidente ucraino Zelensky, anticipando anche Palazzo Chigi, a renderne noto il contenuto, oltre al ringraziamento all'Italia per quello che fa per l'Ucraina. E nel colloquio si discusso anche della visita di Draghi a Kiev. La data è ancora sconosciuta, ma ci si lavora. Il 10 maggio invece il presidente del Consiglio sarà Washington. Nella capitale americana, così come in quella ucraina, Draghi vorrebbe andarci anche con il via libera sul nuovo decreto armi, questione spinosa che divide maggioranze partiti come 5 Stelle. Se Conte dice no all'invio, Di Maio è favorevole. Slitta invece a lunedì il Consiglio dei Ministri sul decreto energia. Si tratta di un insieme articolato di interventi che mirano principalmente a proteggere il potere d'acquisto delle famiglie più vulnerabili, mitigare l'impatto di rincari dell'energia di entità eccezionale sulle restanti famiglie, limitare i costi per il sistema produttivo, in particolare per le imprese più colpite. Si tratta di un nuovo pacchetto di misure per circa 6 miliardi a sostegno di imprese e famiglie. E cresce la preoccupazione per l'impatto economico della guerra? Si tratta di una ombra oscura secondo il vicepresidente della Banca Centrale Europea, De Guindos. La crescita è debole, l'inflazione è alta in tutta l'eurozona. Pronti ad ogni azione necessaria per la stabilità, ha detto poi la presidente della BCE, Lagarde. Capitolo Covid, nuovo boom di casi in lieve calo i ricoveri in terapia intensiva. Oggi il governo decide su mascherine Green Pass. Facciamo il punto con Letizia Davoli. Più 22% di nuovi positivi sui sette giorni. Tornano a salire i contagi da coronavirus nel nostro paese, ieri 87 mila contro i 29 mila di martedì, giorno però successivo ad un lungo ponte festivo. Cala il tasso di positività grazie al forte aumento nel numero di test, ma il confronto settimanale mostra che il Covid è ancora molto diffuso tra la popolazione, anche se all'aumento dei positivi non corrisponde una maggiore occupazione degli ospedali. Sempre sui sette giorni calano infatti i ricoveri in terapia intensiva e restano stabili quelli nei reparti Covid, segno di un virus sicuramente meno aggressivo e soprattutto grazie alla protezione data dai vaccini al 90% della popolazione. È atteso per oggi intanto il Consiglio dei Ministri che prolungherà l'uso delle mascherine al chiuso almeno fino alla fine di maggio. L'ipotesi più probabile è che resti obbligatoria sui mezzi pubblici, nei cinema e nei teatri, oltre che negli ospedali e nell'RSA, mentre potrebbe essere tolta nei luoghi di lavoro. Cade nel vano dell'ascensore, nella sede della Farnesina e muore. È successo questa mattina a Roma, proprio nel giorno in cui si parla di sicurezza sul luogo del lavoro. Sentiamo Giorgia Presciani. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INA il 3 gennaio e marzo sono state 194.106, con un aumento del 59% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'Istituto lo rende noto nella Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, che si celebra oggi, anche se precisa che si tratta di dati provvisori che richiedono cautele. 189 gli incidenti mortali denunciati e ad aumentare sono state in particolare le morti delle lavoratrici. L'incremento dei decessi sul lavoro, rilevato dal confronto tra il primo trimestre 2021 e lo stesso periodo del 2022, è infatti legato solo alla componente femminile, i cui casi denunciati sono passati da 14 a 24, mentre quella maschile scende da 171 a 165. Secondo i dati INAIL, sono in aumento le denunce dei lavoratori italiani, passati da 158 a 163, in calo quelle dei comunitari da 9 a 8 e in parità quelle dei lavoratori extracomunitari, 18 in entrambi i periodi. Se guardiamo all'età, vediamo che aumentano i decessi tra gli under 40, passati da 34 a 49 e trachia tra i 45 e 49 anni, saliti da 22 a 24. E in Italia una donna su tre non ha una fonte di reddito, emerge da uno studio dell'Università Cattolica che richiama ad una maggiore inclusione femminile nella gestione finanziaria del patrimonio. Ce ne parla Caterina Dall'Olio. Le forme del divario tra uomini e donne in Italia si diramano in molte direzioni dalle scelte lavorative ai percorsi di carriera. Una nuova ricerca promossa dall'Università Cattolica indaga un altro ambito, quello della gestione del denaro e dei risparmi. Un terzo delle donne in Italia non percepisce fonte di reddito e altrettante considerano le proprie conoscenze in ambito finanziario ancora insufficienti, nonostante la percezione comune a uomini e donne di avere la stessa capacità nella gestione del denaro e pari nozioni di educazione finanziaria ricevute in famiglia. Secondo la ricerca, infatti, le donne sono più prudenti ad investire. Il 50% del campione femminile intervistato si è detto non disponibile a prendersi rischi connesse a eventuali investimenti contro il 35% degli uomini. Punto di partenza dell'indagine è stata un'analisi della letteratura a cui è seguita una ricerca qualitativa con gruppi di lavoro che hanno coinvolto le donne, i consulenti finanziari e una quantitativa su oltre 2000 persone a cui hanno fatto seguito più studi sperimentali. La ricerca terminerà infine con la messa a punto di laboratori utili a proporre soluzioni concrete per colmare i gap finanziari esistenti. Il presidente Mattarella è stato accolto con un lungo applauso al suo arrivo all'Assemblea Generale di Unindustria, ancora in corso, al Teatro dell'Opera di Roma. Non siamo riusciti a difendere quello che lei aveva definito il dividendo di pace, ha detto il presidente degli industriali, rivolgendosi al capo dello Stato seduto in sala. Una pandemia che sfuma in una guerra sembra irreale, ha concluso Angelo Camilli, invece è la storia che torna a farsi presente. E torniamo a parlare adesso del disagio giovanile. Sono sempre di più gli eventi di cronaca che raccontano i tragici effetti sociali che la pandemia sta avendo sugli adolescenti. Allora sentiamo il servizio di Luciano Piscaglia. Morire per un gesto avventato o per una regola non rispettata è successo ieri sera, poco dopo le 19, nella stazione di Cassano Dadda, nel Milanese, dove un ragazzo di 18 anni è stato travolto e ucciso da un treno in transito. Il giovane, di origine marocchina, era in compagnia del fratello di un amico. Scesi da un treno hanno evitato il sottopassaggio, hanno scavalcato un moretto in cemento e si sono incamminati lungo i binari. È finito in tragedia, un gesto compiuto con leggerezza, forse per sfida alle regole. Uno dei tanti segni di disagio e neppure tra i più evidenti, che emergono tra i giovani in questo periodo, dopo le restrizioni della pandemia. Anche i sempre più numerosi episodi di bullismo e di violenza di gruppo evidenziano infatti la fragilità dei ragazzi e la sempre più grave emergenza educativa. Perché sono ragazzi che non riescono più a trovare il senso, non si chiedono più il senso di ciò che vivono. Vivono sempre nelle irrazionalità, nello stordimento dell'attimo presente. E questa mancanza di progettualità di vita, questa mancanza di sogni e anche di possibilità, certamente atterrisce. Atterrisce innanzitutto loro, che hanno come parola incubo la parola futuro. Dobbiamo allora anche noi adulti interrogarci, impegnarci per dare una proposta educativa che sia davvero all'altezza di questo disagio. Cambiamo argomento perché è pronta a partire la quindicesima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale. L'appuntamento è a Roma dal 5 all'8 maggio. Ci dice tutto Pierluigi Vito. Tulipani di Seta Nera, anche quest'anno da seguire assolutamente perché racconta il cinema nella sua essenza più importante. Presentati al Cinema The Space Moderno di Roma i finalisti della quindicesima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale, articolato in diverse sezioni, documentari, cortometraggi, clip e anche digital serie. La webserie è ancora una realtà perché per un periodo è diventata un po' una parolaccia e invece insomma adesso c'è tanta sperimentazione e questa cosa anche nel sociale che è molto importante. Tra le opere in gara si segnalano i cortometraggi Vecchio con Leo Gullotta, incentrato sulla solitudine degli anziani, e Pappo e Bucco con protagonista Massimo D'Apporto. E un momento significativo si viverà nella giornata di apertura della rassegna. Il 5 di maggio interverrà il ministro Orlando, il presidente Lina e Franco Bettone, sozioni costruttori e sindacati perché vogliamo stupirli con le proiezioni delle impalcature dei cantieri di Roma, perché non può ogni giorno in Italia morire una persona perché cade l'impalcatura e si infortunia. Su questo avremo un grande focus e ritengo che dopo che il cinema se ne occuperà col nostro modo di fare sono sicuro che qualche vita la salveremo. In Israele si celebra oggi la giornata della memoria per le vittime della Shoah e venti in tutto il paese per non dimenticare l'Olocausto. La corrispondente Alessandra Buzzetti. Le sirene suonano per due minuti e un paese intero si ferma. Per le strade e sugli autobus negli uffici ciascuno rimane in silenzio per ricordare sei milioni di ebrei sterminati nell'Olocausto. Oggi lo Yom HaShoah, la giornata della memoria in Israele. La cerimonia di apertura è stata ieri sera al tramonto all'Oyad Vashem, il memoriale dell'Olocausto a Gerusalemme. Sono 161.000 sopravvissuti che vivono in Israele. Sei di loro hanno acceso sei fiaccole davanti alle massime autorità dello Stato. L'Olocausto è un evento senza precedenti nella storia umana, ha detto il Premier Bennett, aggiungendo che è improprio paragonarlo ad altre guerre o conflitti. L'ultimo a farlo è stato il presidente ucraino, molto criticato per questo in Israele. Bennett ha fatto appello anche all'unità del paese, condannando tribalismi e divisioni. Il suo governo di coalizione perde pezzi e non ha più la maggioranza in Parlamento. La destra nazionalista soffia sul fuoco del conflitto che si è riacceso durante Ramadan e dopo gli attacchi terroristici del mese scorso. Sono stati richiamati sei battaglioni di riservisti per controllare i checkpoint e aumentare settimana prossima. I giorni di festa di fine Ramadan coincidono con la festa israeliana dell'indipendenza. Un'ultima ora prima di chiudere, Papa Francesco ha nominato nuovo arcivescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi del clero della diocesi di Albano, finora vicario episcopale per il coordinamento della pastorale ed economo diocesano. Monsignor Risacchi succede a Monsignor Michele Pennisi. Con questo è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon pranzo. Arrivederci.